Visto il sempre più crescente alone di depressione che sta dilagando in quest'ultimo periodo su temi assai pesanti quali Blue Whale Challenge, 13 Reasons Why, Tristezza Assolute e persone che decidono di fare cose sconsiderate ho deciso di incentrare questo video su un argomento molto molto semplice e cioè sulle mie personali 13 cose che mi rendono felice, le mie 13 ragioni anche apparentemente stupide che mi fanno proprio dire Ah che bello essere ancora vivi 1. Mangiare il gelato Ovviamente non sto parlando del gelato in sé ma della possibilità di potermi permettere delle piccole attività abitudinarie da condividere con gli amici come nel mio caso non so il momento gelato che prendo praticamente quasi ogni sera ormai o prendo un caffè ogni mattina per iniziare al meglio la giornata, fare colazione insomma la soddisfazione di potermi permettere una piccola cosa più e più volte 2. DORMIRE Ovviamente chi già mi conosce non rimarrà sorpreso ma dormire la considero una cosa fantastica rimanere disteso, rilassato, ricaricare le batterie, sognare, è tutto meraviglioso quindi anche se riuscissi a trovare il modo definitivo per rimanere sempre carico ed eliminare la necessità di dormire continuerei a vivere per carità ma sarebbe davvero una vita molto molto triste 3. Gli amici Per amici intendo delle persone con cui interagire, scambiare momenti speciali ed importanti che ti danno una mano nel momento del bisogno, qualcuno che tiene a te insomma è una cosa per cui secondo me vale la pena di essere felici e anche quando ci sentiamo totalmente soli magari non ce ne rendiamo conto ma da qualche parte c'è sempre un amico che stiamo ignorando e che sarebbe disposto a darci una mano nei momenti difficili 4. La famiglia e c'è la fortuna di essere stato cresciuto da qualcuno che mi ha protetto che mi ha voluto bene che siano i genitori, gli zii, i nonni, un fratello o anche un amico avere avuto una persona che ha tenuto così tanto a noi è una fortuna per cui sicuramente vale la pena essere felici 5. Non avere grandi problemi sembra stupido per carità ma pensandoci anche i problemi che mi sembrano grandi, giganteschi, insormontabili alla fin fine sono davvero minuscoli in confronto a problemi ben più gravi che potevo avere alla fine mi guardo intorno, noto che ho una casa, ho cibo ogni giorno e sono in salute quindi tutte queste cose fanno di me sicuramente un ragazzo molto molto fortunato 6. Sorridere e con questo intendo proprio la capacità che si ha di farsi una grassa risata non so quanti animali qui sul pianeta siano in grado di ridere come facciamo noi ma il fatto di essere in grado di essere felice in questo modo di divertirmi anche semplicemente con una barzelletta o con un video mi fa proprio dire ah, cioè è tutto così, è tutto bello è tutto, non so, è bello ridere cioè, credo che dovremmo farlo molto molto più spesso 7. La musica credo sia una delle cose più belle che abbiamo inventato nei momenti di concentrazione, di riposo o di tristezza la musica mi ha sempre accompagnato rendendomi capace di attraversare qualsiasi momento della vita e questa sinceramente è una di quelle cose a cui non rinuncerai mai 8. Coltivare una passione e quindi trovare uno scopo anche piccolo che mi spinge ad andare avanti nel mio caso disegnare, creare, inventare nuovi modi per comunicare e raccontare storie piene di fantasia e divertimento insomma avere un obiettivo anche inizialmente molto piccolo sono queste le cose che secondo me possono essere anche capaci di cambiare il mondo e arriviamo al numero 9 poter perseverare e non arrendersi mai trovare dentro quel fuoco il coraggio di riprovare anche dopo un fallimento e credere fermamente che sono e siamo in grado di poter fare qualsiasi cosa magari non al primo tentativo ovviamente ma sapendo di avere la forza necessaria per riprovare e riprovare ancora fino a riuscirci e personalmente quando ci riesco beh, trovo un altro motivo in più per essere felice numero 10 la capacità di imparare la curiosità che ci spinge a cercare ogni giorno di diventare una persona sempre un po' più colta sempre un po' più capace sempre un po' più migliore, se si può dire di come eravamo ieri e senza la voglia di imparare secondo me difficilmente riuscirei ad avere obiettivi a non arrendermi e ad essere felice 11 fare delle cose buone sembra una cavolata cioè sembra una cosa stupida perché con questo non voglio dire che bisogna andare in giro a dispensare continuamente del bene verso tutti altrimenti naturalmente non ci sarebbe più tempo per nient'altro ma ogni tanto fare qualcosa di buono per gli altri aiutare qualcuno insegnare qualcosa anche egoisticamente per il puro piacere di sentirsi utili secondo me è una parte fondamentale per, non so, per star bene con se stessi 12 andare in giro per il mondo e viaggiare conoscere nuove persone, nuovi posti fare nuove esperienze anche semplicemente cambiare aria non so, magari con un'escursione nella natura o andare a vedere un monumento in una grande città viaggiare è una di quelle cose che mi ricorda che fuori c'è un mondo molto più vasto e sapere di avere la libertà di poterlo andare ad esplorare tutte le volte che voglio è sinceramente un sollievo e una grande fonte di ispirazione e arriviamo alla numero 13 che è semplicemente tutto cioè tutto quanto tutto quello che riesco a vedere adesso questo microfono questa casa guardare il cielo e vedere le nuvole sapere che sopra di me c'è un sole che splende forte giorno dopo giorno senza mai smettere e anche quando sembra tutto finito tutto troppo scuro e arriva il buio ecco che arriva la luna così a riflettere la luce del sole e continuare a illuminarci e vedendolo da questo punto di vista sembra un mondo perfetto quasi creato appositamente per noi un mondo che mi sembra anzi troppo perfetto per lasciarselo sfuggire e per non goderselo sempre ogni singolo secondo detto questo spero che le mie 13 piccole motivazioni per essere contento di essere qui con voi tutti quanti vivi possa esservi piaciuto lasciate un bel mi piace se anche voi siete vivi quindi se mettete non mi piace immagino che voi siate morti e voi pensandoci qual è un motivo una cosa che vi rende estremamente felici fatemelo sapere qui sotto con un commento condividete il video per condividere un po' di felicità e ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao